Mi chiamo Aruna, mi sono andato al portello per tenere il gas per casa mia. L'ho trovato a Volantino, ho visto che a casa non ho compiuta, quindi ho trovato della persona. Al portello mi hanno aiutato a fare questa richiesta. Le cose sono complicate, quindi da solo non riesco a gestarvi, però per quello che sotto non sono trovato queste persone per darti una mano. Al portello ho trovato tanti ragazzi, tante ragazze che hanno bisogno di un aiuto per andare avanti. Grazie per l'aiuto. Alla fine ho trovato il bonus. Sono Lisa, sono un'operatrice dello sportello WEC, è un progetto finanziato dalla Fondazione Cariparo. Quest'anno abbiamo iniziato ad aprile circa con le aperture settimanali di questo sportello, che è uno sportello molto base in realtà perché proprio cerca di aiutare le persone nelle procedure che in realtà potrebbero benissimo farsi a casa, ma spesso per mancanza di un accesso internet o per la poca conoscenza della burocrazia e di come funzionano le procedure online, ecco questo non è possibile che avvenga nelle case di tutti. Quindi noi abbiamo aperto questo sportello proprio per occuparci di quelle procedure che sono ad esempio le richieste di bonus, le procedure speed, altre cose che appunto le persone sarebbero imputate a farlo da sole, però spesso non è possibile. La conoscenza della lingua è una barriera ad esempio, oppure anche l'età avanzata è un'altra barriera che rende difficile accedere alle procedure online e oggi sappiamo bene che le procedure online sono alla base un po' dell'accesso ai bonus, anche per quanto riguarda le scuole, spesso i genitori sono costretti a passare per le procedure online per pagare le mense, le rette e queste cose qui. Non avere un supporto internet, banalmente un computer o un accesso a internet impedisce a tante persone di fare facilmente queste cose. Sono Francesco, sono un volontario del progetto WEC e mi sono avvicinato a questo progetto grazie ad alcune delle mie esperienze appunto di volontariato, di attività sociale pregresse. Ho qualche conoscenza comunque all'interno delle dinamiche migratorie in quanto ho fatto per qualche anno l'insegnante di scuola d'italiano all'interno di altri progetti e inoltre mi sono anche avvicinato a dimensioni comunque molto simili a quelle prate avanti dal progetto WEC di compartecipazione sociale, di aiuto in dimensioni quali di sportelli o comunque di relazione appunto di quartiere. Queste cose mi hanno portato subito ad interessarmi a quello che il progetto WEC costituisce come esperienza e come attività e ad avvicinarmi quindi progressivamente ai vari appuntamenti che si sono tenuti. Il motivo per cui sono qui quindi diciamo è anche una continuità ideale ma anche materiale con quello che sono un po' i miei interessi, le mie passioni e le mie attività pregresse. Tra le procedure che abbiamo eseguito in questi mesi sicuramente ci sono quelle dei bonus per le famiglie fragili e questo ha coinvolto molte donne in questa in questa procedura perché si trattava di un bonus erogato dalla regione che riguardava le famiglie numerose quindi con più con tre o più figli e le famiglie con un genitore solo e infatti ci siamo trovati ad assistere molte donne con figli, molte donne sole che richiedevano questo bonus giustamente perché rientravano nei requisiti e questo sicuramente è un dato importante perché appunto la situazione esiste quella delle donne sole con figli che spesso hanno lavori part time perché non possono altrimenti non potrebbero altrimenti accudire i bambini ma è difficile soprattutto in questi tempi con tutto il caro vita che sappiamo l'aumento delle bollette dei costi della spesa arrivare a fine mese sostanzialmente. Qui allo sportello UEC molti degli utenti, delle donne, degli uomini che vediamo ad ogni appuntamento appartengono maggiormente a quella fascia di popolazione migratoria che è qui ormai da svariati anni che ha comunque un lavoro più o meno fisso sul territorio e ha anche una dimensione che comincia a essere radicata tra la dimensione familiare, la dimensione di un contratto d'affitto, tutte cose che possono sembrare scontate magari per chi di noi è nato comunque in Italia o in una dimensione magari europea ma spesso sono indicatori già di un buon percorso avviato sul territorio. Questo lo dico sia in positivo ma sia in negativo perché una cosa su cui magari ci terrei a sottolineare a porre un aspetto di evidenza, queste persone non sono la totalità della popolazione migratoria che vive nei nostri territori con altre esperienze fatte, quali ad esempio magari la scuola di italiano o qualche sportello più di bassa soglia ci rendiamo conto che sono tanti e tante comunque le persone migranti che si trovano ancora comunque in un limbo sia da un punto di vista legale ma anche da un punto di vista di possibilità di accesso a una serie comunque di attività sociali o di bonus ma anche di capacità di poter essere veramente considerati cittadini sui territori dal problema della residenza, dal problema del codice fiscale per accedere alle visite mediche tutto questo sono altri aspetti che sicuramente comunque vanno tenuti in considerazione quando si fa questo tipo di esperienze. All'inizio scrivendo il progetto ci eravamo dati come obiettivo il raggiungimento di circa un centinaio di persone attraverso questo sportello. Siamo in dirittura d'arrivo e abbiamo quasi raggiunto il numero che ci eravamo prefissati a dimostrazione che comunque c'è un'utenza che necessita di questo servizio e sicuramente tante persone sono venute da noi per accedere a bonus e a agevolazioni altre sono venute da noi per avere un aiuto con la questione dello speed dell'identità digitale e questo è un altro dato molto importante perché tante persone venivano da noi per fare dei bonus ma non riuscivamo ad accedere alla procedura online a causa di un malfunzionamento dello speed non viene insegnato come perfezionare la procedura speed in modo che sia poi semplice usare l'app e questa è una cosa che abbiamo fatto in quasi tutti i casi nel senso che le persone venivano per il bonus ma le si aiutava anche per questo tipo di procedura in modo che il prossimo bonus fosse più facile da raggiungere e questo è sicuramente un dato importante comunque i numeri di accesso sono più o meno di 3-4 persone a mattinata sicuramente in questo tipo di progetto ho potuto appurare quanto comunque la presenza dei vari volontari sia una presenza assolutamente comunque necessaria per garantire uno sviluppo del lavoro sereno nel momento appunto di apertura dello sportello provo a spiegarmi meglio può capitare che comunque ci siano giornate in cui gli utenti siano abbastanza in batteria o a ogni mezz'ora quindi di conseguenza anche comunque un'attività di supporto nella prima scrematura dei documenti di un'estrapolazione magari dei dati intermediandosi appunto tra l'operatrice, l'operatore e l'utente sono tutti aspetti che aiutano a velocizzare un lavoro aiutano a una maggiore comprensione e aiutano anche comunque soprattutto una comunicazione serena che porta anche alla creazione di un ambiente tranquillo di un ambiente comunque rilassato anche di fronte comunque a un approccio alla tecnologia a un approccio comunque a una dimensione economica che comunque crea sempre un certo tipo di tensione e quindi secondo me appunto questo tipo di attività a me ha gratificato molto e mi ha portato comunque a sentirmi utile in questo progetto Aspettato 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 Grazie a tutti.